Il processo che attraverso una terribile esperienza bellica portò alla fine della dittatura e alla nascita della democrazia in Italia, rivela aspetti importanti, utili a completare la visione di un quadro nazionale troppo frammentato. La separazione del paese in due parti dopo l'occupazione alleata e l'8 settembre 1943 ha certamente contribuito a rendere difficoltosa la lettura unitaria della più spaventosa crisi della nostra storia nazionale e ha impedito di coglierne i tratti comuni. Per di più, l'occupazione anglo-americana mise la Sicilia nella condizione di beneficiare di un precoce dopoguerra, mentre ancora il resto del paese pativa i disagi di una guerra ferocemente combattuta. E questo è stato un ulteriore elemento che ha contribuito a far percepire la sua vicenda come marginale rispetto al contesto nazionale. Al contrario, la nostra ipotesi di lettura, pur non trascurando le peculiarità, come è tipico di ogni opera storiografica, mira a recuperare i tratti comuni dell'ardue e drammatico passaggio nel quale fu impegnato il popolo italiano nel periodo che va dal 1940 al 1945. Un momento risolutivo di questa vicenda vide il territorio e la società siciliane balzare in primo piano. Fu appunto il momento dell'occupazione. Cui si accompagnò la manifestazione definitiva della crisi del regime, quella del 25 luglio, effetto diretto dell'avvenuta invasione del territorio nazionale, ma ancor più dell'acquisita consapevolezza in Sicilia e nel resto d'Italia, delle enormi e inutili rovini e lutti che la guerra aveva provocato e stava provocando, della pericolosità e inaffidabilità dell'alleato tedesco. La crisi del regime fu anche crisi delle grassi dirigenti tradizionali e della monarchia innanzitutto. Fu crisi degli apparati burocratici e militari che insieme al regime furono in parte travolti e non solo per la connivenza ventennale. Ma contribui a orientare questa crisi in senso separatistico, nella speranza rivelatasi ben presto ingenua di trovare un modo per far dimenticare agli alleati, alla stessa popolazione i legami ventennali con il fascismo, nella speranza, anche essa ingenua, di poter congelare equilibri sociali ed economici grazie alla protezione delle armi alleate. La Sicilia, dunque, nella percezione successiva diventa la parte reazionaria d'Italia, contrapposta a quella antifascista e resistenziale del centro nord. Questa immagine si consolidò poi negli anni 60, quando una storiografia sulla resistenza nel nord andò perfezionando il suo paradigma narrativo e di ricerca. Noi affronteremo un problema specifico, non tutta la vicenda storiografica della Sicilia, i colleghi che seguono parlano d'altro, di altri aspetti importanti. Io invece qui affronto il problema della storiografia che negli anni 50 ha conosciuto, ha dato conto della vicenda siciliana, della vicenda dell'occupazione e della crisi del regime in Sicilia e dell'andamento della battaglia. Seguirò quindi il filo di una storiografia, non tanto i fatti. La prima cosa da dire a questo proposito è che noi oggi abbiamo una forte banalizzazione di questo problema. Subiamo una forte banalizzazione dovuta alla predominanza di una storiografia di carattere, di origine anglosassone. I libri più letti sulla vicenda siciliana sono i libri di storia militare scritti da osservatori o storici inglesi o americani come quello di Pond, Sicilia che è del 64, di Shepard, La campagna d'Italia del 75, fino all'ultimo, Lo sbarco in Sicilia di Carlo d'Este che è degli anni 90. E caratteristica comune di questi libri è quella di leggere questa storia solo da un punto di vista anglo-americano riportando tutta una serie di polemiche interne all'establishment anglo-americano e poi un racconto anche talvolta abbastanza leggero e scorrevole che somiglia molto a quei film di fiction di guerra che propongono l'idea dell'eroismo degli alleati eccetera oppure così dell'americanata in qualche altro modo, non in qualche altro verso, per qualche altro verso. Invece questa storiografia però, questa visione che poi viene ripresa continuamente da una storiografia locale molto nutrita che racconta paradossalmente dal punto di vista americano una storia locale ha messo da parte una ricchissima storiografia nazionale presente a partire dalla guerra fino a tutti gli anni 50 e perfino a raggiungere gli anni 60 che invece concentrò la sua attenzione sulla vicenda siciliana come problema centrale della vicenda nazionale la sconfitta in Sicilia come sconfitta, come passaggio centrale si tratta di una storiografia fortemente orientata a destra ma è estremamente interessante per capire la sua, la costruzione appunto di questa memoria la costruzione di un'idea di Italia che per una buona parte della vicenda politica della Repubblica ha accompagnato la nostra opinione pubblica, ha costituito la nostra conoscenza e fortemente ha dialogato con le stagioni politiche della nostra Repubblica dalla crisi del centrismo alla nascita del centro-sinistra noi possiamo distinguere due fasi nella produzione italiana sulla guerra in Sicilia ambe due legate a un dibattito politico l'incipit della prima fase è da collocare nel bel mezzo della battaglia per la Sicilia ed è dato dagli articoli che Roberto Farinacci pubblicò a partire dal 15 luglio sul regime fascista era un attacco ai comandi militari in Sicilia ritenuti incompetenti e sospettati di tradimento dopo le prime sconfitte e in particolare dopo il crollo 10-12 luglio, quindi tre giorni dopo della piazza militare marittima di Augusta Siracusa la base dipinta come munitissima ed effettivamente abbandonata dai suoi difensori senza opporre alcuna resistenza e addirittura prima che le truppe britanniche fossero in vista cadde e tra le grandi polemiche la polemica così avviata divenne uno dei temi importanti del fascismo repubblicano contro la monarchia dopo l'8 settembre e fu ripresa da Mussolini nella sua storia di un anno, 1944 nel dopoguerra la ricerca del complotto, atta a spiegare la sconfitta sarebbe stato un argomento forte della ricostruzione di una identità neofascista tra le opere più importanti di questo periodo vanno segnalate l'opera dello storico Attilio Tamaro quella del catanese Filippo Anfuso che era ambasciatore della RSI a Berlino intitolata Roma e Berlino Salò le memorie del gerarca palermitano Alfredo Cucco non volevamo perdere apparse nel 50 e da dire era stato epurato nell'operazione Mori ritornò nella fase ultima del fascismo repubblicano importante è anche la pubblicazione nel 45 dei pamflet di Antonino Trizzino un autore destinato a maggior fama negli anni a seguire in questo periodo scrisse che vuole la Sicilia punto interrogativo e vento del sud quest'ultimo recante alla prefazione del leader separatista siciliano Andrea Finocchiara Aprile era un tentativo di contaminazione anche sicilianista di questo dibattito le accuse erano rivolte principalmente ai militari che avevano divulgato la loro versione della guerra con i libri di Badoglio l'Italia nella seconda guerra mondiale partita dal 45 i volumi del generale Zanussi guerra e catastrofe dell'Italia sempre questo del 45 e quindi nel 46 con Francesco Rossi come arrivammo all'armistizio e lo stesso anno 8 milioni di baionette del generale Roatta il generale Roatta era stato il discusso comandante delle forze armate in Sicilia fino alla vigilia dello sbarco nonché come è noto accusato di crimine di guerra e sottoposto a giudizio per la condotta successiva all'8 settembre a queste teorie complottistiche a questi libri ispirati a teorie complottistiche si contrappose però fin da allora un altro tipo di letteratura una variante eroico e patriottica della memorialistica e in questo caso siamo davanti al libro del 47 di Dante Ugo Leonardi luglio 43 in Sicilia Dante Ugo Leonardi era stato il comandante del 34esimo reggimento di Fanderia Livorno cioè di quella divisione che a Gela aveva combattuto eroicamente contro gli americani ed era stata pressoché distrutta nel corso di quella battaglia quindi sono presenti queste due varianti nella ricostruzione della vicenda siciliana gli ufficiali però come Leonardi e altri ancora avrebbero avuto una parte più importante e una maggiore visibilità qualche anno dopo nel 53 in occasione della pubblicazione del libro di Antonio Trizzino Navi e poltrone si tratta di un celeberrimo libro che era un atto di accusa ancora una volta rivolto principalmente al comportamento della marina italiana la caduta di Pantelleria la battaglia per la Sicilia la fine della piazza militare marittima di Augusta Siracusa divennero allora secondo il punto di vista sostenuto da Trizzino simboli forti del tradimento consumato dai militari contro il regime e la patria seguì un processo per diffamazione indentato contro l'autore del libro e tuttavia conclusosi in secondo grado il 13 febbraio 1955 davanti alla corte d'appello di Milano con l'assoluzione dell'imputato questo risultato non portò a una messa sotto accusa del comportamento della marina e delle forze armate quanto piuttosto a un avvio di dialogo tra i neofascisti e gli epigoni dell'estabilcimento militare monarchico ancora largamente presenti nelle istituzioni il contesto era di maggiore attenzione rivolta a destra a causa della crisi della formula di governo centrista alcuni segnali significativi direttamente collegati con la vicenda di cui stiamo trattando quando furono l'arresto e il processo davanti a un tribunale militare dei critici cinematografici Guido Aristarco e Renzo Renzi per una irriverente sceneggiatura sul comportamento dei militari italiani durante l'occupazione della Grecia nella seconda guerra mondiale nello stesso 53 fu arrestato Giovanni Guareschi per aver pubblicato alcune false lettere in cui De Gasperi avrebbe chiesto agli alleati di bombardare l'Italia erano questi i gesti provocatori compiuti dal potere militare da una popolare e da un popolare scrittore notoriamente orientato a destra che voleva rappresentare un'Italia a suo modo ragionevole, dignitosa e non faziosamente partitica ciò che si voleva sottolineare era la necessità di un congelamento dell'antifascismo e della Costituzione con esso come ideologia della rinnovata identità nazionale ovvero l'impossibilità, si sosteneva, per i partiti che stavano al potere di condividere una base comune con un'opposizione che faceva della resistenza dell'antifascismo e sui punti di forza il conflitto non era solo ideologico ne si risolveva solo nell'ambito della politica interna al paese seguiva le linee di un accentuato bipolarismo sul piano internazionale per parte dell'area moderata interna alla democrazia cristiana il recupero di un rapporto stabile con le vecchie classi dirigenti appariva un aspetto importante volto a ricostruire un equilibrio nuovo fu un segnale forte in questa direzione l'incontro tra Giulio Andreotti e il maresciallo Rodolfo Graziani nel corso del processo di Trezzino e negli anni immediatamente successivi il dibattito pubblico sulla campagna di Sicilia conobbe un nuovo slancio questa volta principalmente i militari furono a far conoscere il loro punto di vista e elaborare una linea difensiva per l'esercito intervennero lo stesso comandante della 6ta armata Alfredo Guzzoni l'armata che aveva difeso la Sicilia e il suo capo di stato maggiore Emilio Faldella per l'aviazione intervenne il generale Santoro per la marina gli ammiragli Bragadin e Iachino al di là dei pur presenti aspetti di difesa corporativa che questa rappresentanza delle varie armi comportava il tono del discorso fu segnato da Guzzoni il quale rinduzzò le accuse sostenendo che la sfortunata battaglia destinata ad essere perduta in partenza era stata combattuta con dignità ed eroismo la sua fu un amossabile poiché riuscì a contenere il discorso nell'ambito dell'opinione moderata e anzi ottenne qualche apertura nel fronte neofascista il suo articolo scritto sotto forma di lettera aperta al ministro della difesa Taviani democristiano e resistente come è noto fu pubblicato dal settimanale Il Borghese di Aria Missina con il titolo provocatorio Il ministro non risponde il problema sollevato era quello relativo al medagliere della battaglia di Sicilia a giudizio di Guzzoni penalizzato da un ingiusto provvedimento preso da Randolfo Pacciardi come ministro della difesa del quinto governo De Gasperi siamo nel 48 Pacciardi aveva infatti disposto che le onorificenze proposte per la campagna di Sicilia fossero vagliate con maggiore severità delle altre lo spostamento di fronte polemico verso le sinistre tentato da Guzzoni avrebbe dato in seguito i suoi frutti una delle migliori ricostruzioni apparsa in questo periodo il libro di Faldella lo sbarco della difesa della Sicilia che seguì un anno e mezzo dopo l'intervento di Guzzoni conteneva ancora un'aspra polemica nei confronti dei gerarchi fascisti e sottolineava il comportamento poco onorevole dei reparti della milizia di fronte al nemico tuttavia Faldella riproponeva la linea di una costruzione del quadro eloico in questo caso rivolgendosi polemicamente verso la cultura politica repubblicana che aveva penalizzato il sacrificio di molti soldati e così facendo aveva tagliato i ponti con una continuità nella quale i gruppi dirigenti delle forze armate si riconoscevano ancora la frase destinata a diventare epigrafe da porre a suggello del sacrificio fu dettata dal generale Ottavio Zoppi nella sua prefazione al libro di Faldella due punti, virgolette la battaglia per la Sicilia malgrado la più ferma volontà e la capacità dei comandanti e l'eroismo dei soldati era perduta in partenza per l'incolmabile nostra inferiorità di mezzi non poteva essere che la battaglia del dovere e dell'onore e tale fu così appunto il generale Zoppi continuava il generale Zoppi ricordando agli italiani che cito la resistenza in Sicilia durò 38 giorni mentre nel 1939 la Polonia fu conquistata in 29 giorni l'esercito francese intatto crollò in 40 giorni non abbiamo qui la possibilità di approfondire le pessimistiche opinioni che tuttavia Faldella nel suo libro espresse sull'efficienza dell'esercito che lui stesso comandava intanto mi pare opportuno trarre la seguente citazione in linea con la costruzione di un quadro epico che avrebbe dovuto riempire il quadro epico il vuoto lasciato dalla mancanza di ogni strategia di ogni prospettiva al momento dello sbarco alleato notava Faldella dove avere lungamente illustrato la penosa situazione delle difese e l'ancor peggiore condizione in cui versavano i civili affamati e terrorizzati ai bombardamenti due punti cito era naturalmente assurdo pretendere che ufficiali non preparati ad esercitare il comando dessero prova di iniziativa e di capacità in situazioni particolarmente difficili e mutevoli potevano tutt'al più dimostrare di saper morire e molti infatti caddero da valorosi fine della citazione la memoria della battaglia per la Sicilia così continuava a evocare il momento cruciale della difesa della patria intrappolata però in mille contraddizioni che rendevano difficile a ognuno dei protagonisti l'assunzione di un ruolo chiaro davanti alla catastrofe i militari per quanto potessero rintuzzare la polemica puntando sulla conduzione politica della guerra e in particolare sulla disastrosa condizione in cui il regime aveva lasciato la popolazione e le forze armate in Sicilia si trovavano a condividere alcune di quelle responsabilità come esponenti della classe dirigente il tema dell'eroismo sottolineava questo punto di vista e questa condizione come una necessaria prova di espiazione offerta al momento della resa dei conti su questa via si accentuavano le polemiche di tipo corporativo che contrapponevano eroismo, dedizione, competenza delle varie armi un esempio di questa variante polemica fu data dalle accuse mosse dall'ammiraglio Bragadin all'esercito per non aver protetto da terra la base di Augusta Siracusa lasciando così scoperte le spalle dei marinai che avevano il compito di difendere il fronte a mare per questo i difensori sarebbero fuggiti Faldella dal canto suo non risparmiava critiche all'aviazione poco presente nella battaglia nonostante l'ottimismo mostrato dai suoi comandanti nella fase precedente l'assenza della marina dalle acque siciliane durante lo sbarco fu un altro dei temi scottanti che perfino metteva in crisi il paradigma eroico lo avrebbe discusso l'ammiraglio Iachino nel suo Il tramonto di una grande marina e del 1959 dedicato ai compagni di una guerra più assurda che sfortunata ammetteva Iachino la giustezza della scelta di aver usato le navi come moneta di scambio al momento dell'armistizio tuttavia concludeva con una nota sentimentale che lo portava a tessere l'oggio del sacrificio e a rimpiangere la battaglia mancata sul canale di Sicilia Iachino in realtà toccava tutti i trasti sensibili per condurre il suo tentativo di pacificazione sul terreno niente affatto sentimentale e nostalgico di un'ottica giocata sugli schieramenti della guerra fredda sul superamento dei particolarismi nazionali che quest'ottica richiedeva il tramonto, così come intitolava Iachino della marina italiana iniziato in quell'estate del 1943 per l'ammiraglio altro non era stato che l'annuncio del tramonto delle marine nazionali la fine di un'epoca cito era tramontata nel mondo tutta un'era navale l'era delle grandi nave e delle marine autonome sorgeva invece l'era dei missili dei sommergibili atomici e delle marine cosiddette integrate nella nuova associazione atlantica in omaggio all'ideale di solidarietà europea al quale tutte le nazioni aderenti hanno sacrificato la loro indipendente sovranità e l'autonomia delle loro forze armate era un modo di banalizzare la guerra stessa facendola vedere come un passaggio quasi necessario in vista di questa solidarietà europea che durante la guerra non era tanto operante per la verità l'ultimo dei libri importanti di questo dibattito fu quello di Gaetano Zingali L'invasione della Sicilia pubblicato nel 1962 a Catania la data è già segna una svolta importante avvertita di più in Sicilia che altrove per via della crisi che aveva colpito la politica regionale negli anni 1958-59 con la scissione democristiana la tentata creazione di un secondo partito cattolico e la formazione di un governo regionale composto da partiti di destra e di sinistra alleati tra di loro la vicenda si era risolta con un'anticipazione di quella che sarebbe stata da lì a poco la formula di centrosinistra applicata su scala nazionale davanti a questa congiuntura il tentativo di Zingali era volto a ricucire le sparse schiere della destra in Sicilia come a sud numericamente rilevanti ma divise tra di loro da insanabili contrasti e senza una strategia comune per farciò l'anziano professore dell'Università di Catania anzi proprio di questa facoltà proprietario di un'azienda agricola aveva buone carte di credito era stato segretario della Federazione Fascista di Catania negli anni 20 messo da parte della gestione starriciana del partito durante la guerra era stato richiamato a ricoprire la carica di Vice Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni carica dalla quale si dimise dopo aver constatato secondo la sua stessa ricostruzione la inadeguatezza e contraddittorietà delle misure adottate dal regime per far fronte alla drammatica situazione in cui versava la popolazione ridotta ormai alla fame quello di Zingali era stato un osservatorio privilegiato della crisi del rapporto tra classi dirigenti regionali e fascismo e tuttavia questa crisi non aveva trovato altro sbocco che la protesta separatista le lamentele sicilianiste che segnano anche l'argomentazione del nostro testimone la dialettalità del sicilianismo si rivelò ben presto l'abile terreno su cui tentare l'unificazione delle vecchie classi dirigenti sia su scala regionale sia a maggior ragione su scala nazionale da qui il recupero da parte del nostro del vecchio tema patriottico rappresentato attorno alla battaglia decisiva che aveva decretato la svolta della guerra la fine del vecchio mondo monarchico e fascista insieme da politico qual era Zingali allargava la sua trattazione agli aspetti sociali ed economici diversamente dai militari precedenti tendendo anche di dare una rappresentazione della contraddizione tra forze armate e regime lui si schierava nettamente dalla parte delle forze armate e quindi descriveva due entità contrapposte governo partito da un lato ed esercito popolazione siciliana dall'altro l'una effettiva responsabile della sconfitta governo partito l'altra ingiustamente accusata dai tedeschi, dai gerarchi, dai loro epigoni quindi il popolo esercito il popolo siciliano a suo dire si sarebbe riconosciuto nell'esercito Zingali fondava tali deduzioni sulla composizione delle divisioni dislocate nell'isola al 70% formate da siciliani anche se bisogna dire che le formazioni della milizia non erano da meno e anzi raccoglievano una percentuale di popolazione locale sicuramente maggiore in realtà era difficile separare la responsabilità politica da quella dei comandanti militari prima e dopo la svolta del 25 luglio che vide il comando della sesta armata rigidirsi su una continuità di comportamenti e di strategia simile a quella che caratterizzava Badoglio e il suo governo quindi una confusione che non portava a una contrapposizione con i tedeschi Guzzoni infatti proprio in merito a questa vicenda tenne a precisare davanti ai comandanti tedeschi che in mancanza di altri ordini si considerava vincolato a quelli di resistenza a oltranza contenuti in una lettera scrittagli dal Mussolini il 22 luglio e ricevute il 29 luglio quindi a cavallo della crisi del 25 luglio non cambia nessun atteggiamento a questa data le forze armate italiane in Sicilia erano ridotte allo stremo numericamente inferiore a quelle tedesche a causa delle diserzioni in massa e delle altrettanto massicce rese al nemico circa 100.000 prigionieri altri 100.000 fuggono su 315.000 componenti le forze armate italiane l'unica operazione ancora organizzata che i comandi riuscirono a portare a termine fu la ritirata attraverso lo stretto di Messina di 62.000 uomini sui 315.000 come dicevo prima di cui era composta 38 giorni prima la sesta armata la vicenda siciliana rappresenta così un terreno di indagine importante per la conoscenza della crisi del 43 e la marginalità in cui d'essa cade dopo la battaglia a renderla interessante ai nostri occhi in questo isolamento infatti si consumò la deriva del rapporto tra istituzioni classi dirigenti e popolazioni senza che alcuna prospettiva di azione collettiva si profilasse all'orizzonte l'unica salvezza consistette nel rifugiarsi nel particolare nel conservare la vita e le cose esercito e popolo vennero incoraggiati a imboccare questa strada perfino dagli ufficiali di ogni ordine grado non tutti naturalmente si comportarono così ma anche alcuni dei più coraggiosi combattenti si resero conto di come la salvezza individuale fosse l'unica alternativa alla distruzione e alla morte senza alcun progetto in questi gesti si dissolse il ruolo di una classe dirigente ormai incapace di promuovere e di provvedere alla direzione della cosa pubblica se vogliamo così chiamarlo si consumò quel fenomeno indicato nel dibattito storiografico come la morte della patria in Sicilia con rilevanti differenze rispetto al quadro nazionale nel corso della battaglia della Sicilia infatti ad aggravare la situazione si aggiunse il comportamento dei soldati tedeschi già usi ad accaparrare risorse passarono in alcuni casi alla rapina a mano armata e perfino all'assassinio di civili di religiosi e di militari d'altra parte gli alleati nella loro avanzata si facevano precedere da una propaganda accattivante distribuivano cibo e promettevano la fine della guerra ma combattevano duramente e alcuni reparti si resero responsabili di stragi di soldati e condadini inermi la consapevolezza di questa crudeltà riaffiora di recente grazie a nuove ricerche e ci mette di fronte a un quadro che non ammette semplificazione o giustificazione e tantomeno cedimenti a quegli usi impropri della storia che sempre più di frequente i mezzi di comunicazione di massa ci propongono un quadro più completo come quello che si può ricavare tra l'altro dalla ricostruzione di queste tragiche vicende ci mostra la difficoltà di attribuire agli alleati un progetto compiuto di democrazia per l'Italia ci appare pertanto scorretto soggiacere a certe suggestioni dell'attualità come taluni hanno fatto e parlare della ricostruzione dell'Italia postbellica come del caso di una democrazia importata sulle baionette degli eserciti alleati e tanto meno per intercessione mafiosa si è voluto minimizzare così il contributo degli stessi italiani alla costruzione della democrazia ma anche si sono volute cancellare quelle peculiarità che fanno di ogni esperienza di democrazia un caso a sé proprio perché essa nasce dalla storia dal consenso e dalla creatività di un dato popolo e non da schemi astratti e riproducibili sotto ogni cielo il dopoguerra siciliano è un punto di osservazione importante anche a questo proposito ci mostra in una prospettiva dal volto originale le tappe della difficile ricostruzione materiale e morale dell'intero paese in Sicilia si dovette fare i conti con un retaggio di arretratezza con il vecchio e sempre nuovo problema della criminalità mafiosa che conobbe allora una delle più virulente manifestazioni una capacità di ricostruzione dall'interno di invenzione di nuove forme di convivenza fu data anche dal rompere sulla scena politica e sociale di ceti e gruppi che fino allora ne erano stati esclusi come le donne i contadini mobilitate attorno a una nuova legislazione agraria i decreti gullo che ribaltava i rapporti di forza nelle campagne si mise così in moto un processo che riportò la Sicilia a dialogare con il resto del paese ad aprire un confronto con quelle altre esperienze e progetti di democrazia che si stavano svolgendo al di là del fronte che per due lunghi anni aveva diviso l'Italia molto ci fu da apprendere da quelle esperienze e per esse fu reso disponibile un importante patrimonio politico e culturale che arrivò da noi per il tramite dei grandi partiti veri canali di comunicazione e di dialogo per tutta la società nazionale battuto il separatismo in Sicilia intanto si stava elaborando un originale progetto di autonomia regionale inteso come strumento di dialogo con la società nazionale destinato ad essere un elemento integrante della carta costituzionale oggi a noi tocca ricostruire con attenzione ed equilibrio diversi aspetti della storia di quegli anni contraddittori come sempre con una forte conflittualità spintosi dal volta fino all'assassinio e alla strage prezzo pesantissimo pagato perché si aprisse una stagione nuova dalla regione arretrata venne certamente una forte attenzione ai problemi dello sviluppo e alla solidarietà tra le varie parti del paese per promuovere una democrazia delle opportunità grazie 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 grazie